Ok, allora, l'obiettivo di questa mattina è fare due cose. Uno, andare a discutere di altri due elementi fondamentali in JavaScript che sono gli oggetti e le funzioni. Abbiamo intravisto qualcosa, quando abbiamo aperto una graffa da qualche parte così, oppure abbiamo scritto una funzione, abbiamo parlato, accennato una funzione, adesso questa mattina le vediamo nel dettaglio. In più useremo metà della mattina sostanzialmente a fare un po' di esempi, esercizi e così via interattivi. Interattivi nel senso che sento anche le vostre proposte, cosa vorreste proporre di fare e eventualmente valutiamo idee alternative rispetto a quello che vorremmo fare. Proveremo ad usare l'ambiente di sviluppo che userete durante il corso, che è il Visual Studio Code. Quindi, in Python Tutor ci va bene, abbiamo fatto qualche screenshot sulle slide per vedere l'organizzazione nella memoria, come vengono gestiti oggetti, funzioni, array in JavaScript, dall'interprete. Però, diciamo, a parte quello, il Python Tutor non ci può aiutare più di tanto. È uno strumento didattico. Invece il Visual Studio Code ci serve a far girare i programmi, a debaggarli, ad aiutarci a scriverli, perché ci dà l'autocompletion, quindi suggerimenti dei vari metodi presenti e così via. E quindi dobbiamo imparare a utilizzarlo e l'obiettivo di questa mattina è usarlo, perché poi in laboratorio lo userete. Come sempre non c'è nulla di obbligatorio nel senso di usare i programmi consigliati, eccetera, ma noi riteniamo che siano la cosa migliore, più semplice, quindi vi invitiamo caldamente ad utilizzarli. Di per sé, come in qualsiasi linguaggio di programmazione, potete aprire un editor e scrivere codice dove volete, farlo girare dove volete. Però diciamo che se abbiamo un ambiente che ci supporta è la cosa migliore. C'è ancora qualche posto qui davanti, vedo, mi spiace che siamo un po' allo stretto oggi, ma non potevamo far diversamente. Allora, io direi di parlare un pochettino dell'argomento di oggi, quindi cominciare a parlare di oggetti e funzioni, e mano a mano che andiamo avanti, interagiamo appunto col Visual Studio Code, proviamo effettivamente a far funzionare i nostri esempi, alcuni di questi esempi, nell'ambiente di sviluppo, a debagare un po', e così via. Ok, quindi, intanto ripassiamo anche quello che abbiamo visto martedì scorso, quindi due giorni fa, un po' sugli array e le stringhe che abbiamo visto un po' rapidamente alla fine, come esempi. Oggetti e funzioni sono elementi estremamente importanti in JavaScript, quindi dobbiamo conoscerli bene. Prima di tutto parliamo di oggetti. Voi avete già studiato dei linguaggi di programmazione oggetti, ecco, dovete fare un po' attenzione, JavaScript ha un concetto di oggetto un po' particolare, nel senso che non sono gli oggetti che hanno un template, quindi uno schema predefinito, che si chiama classe negli altri linguaggi di programmazione oggetti, quindi oggetti possono esistere senza questo schema predefinito, cioè sono creati al volo, sono, diciamo, un insieme di proprietà che possono essere, che possono avere dei valori di tipo primitivo, quindi quelli che abbiamo visto l'altra volta, dei numeri, delle stringhe, dei boolean, undefined null, oppure dei riferimenti a degli elementi di tipo più complesso, quindi array, oggetti a loro volta e funzioni. Quindi, gli oggetti sono creati direttamente, senza aver prima definito lo schema dell'oggetto, cioè quello che negli altri linguaggi chiamiamo classe. In più sono dinamici, cioè ci sono proprietà, noi le possiamo definire al volo, le possiamo cancellare, le possiamo ridefinire e così via, quindi possiamo fare un po' di tutto in questi oggetti di javascript e in più non c'è un sistema di controllo dell'accesso alle proprietà di questi oggetti, cioè è tutto pubblico, sapete che in certi linguaggi potete definire un metodo o un campo privato, protetto, nel senso che sono quelli che ereditano a quell'oggetto, possono accederci, eccetera. In javascript è tutto pubblico, ok? Quindi questo è, come dire, un vantaggio ma anche un problema perché c'è il rischio di sbagliarsi molto facilmente. Ecco, la differenza tra proprietà e metodi di fatti non esiste, perché come vedremo tra poco quando parliamo delle funzioni, una funzione o un oggetto è lo stesso, quindi può essere assegnata ad una proprietà e nel momento in cui è assegnata ad una proprietà io non so più che cosa c'è in quella proprietà, se c'è un valore primitivo, se c'è un riferimento ad un oggetto, ad un array o ad una funzione. Se so che c'è una funzione, per chiamarla dovrò usare parentesi tonde, ma di per sé non c'è nessun'altra differenza. La funzione deve essere chiamata con dei parametri, il resto, array oggetti, bisogna fare accesso secondo la loro sintassi, quindi con le quadre piuttosto che con il punto qualcosa per la proprietà. Quindi, un oggetto, se vogliamo dare una definizione, è una collezione, un insieme non ordinato di proprietà, quindi delle proprietà non ordinate nel senso che non è come un array, un array mantiene l'ordine se gli indici sono numerici, perché l'array in javascript è tra l'altro anche un po' particolare. Ok, potete ovviamente fare accesso alle proprietà tramite i nomi delle proprietà, andiamo a dare un'occhiata alla sintassi, cioè come si gestiscono. La cosa è abbastanza semplice, le graffe sono l'indicazione dell'oggetto, così come le quadre sono l'indicazione dell'array. Quindi quando creiamo un oggetto, apriamo delle graffe e mettiamo proprietà, due punti, il suo valore. Ok? Possiamo avere il nome delle proprietà scritti direttamente o con le virgolette. Perché? sottolineo queste virgolette perché nel momento in cui vogliamo usare nomi più complicati, cosa che vi sconsiglio onestamente per le proprietà, dobbiamo, se introduciamo caratteri speciali come gli spazi e così via, delimitare bene il nome della proprietà e cos'è invece il suo valore. Ok. Il valore può essere qualsiasi cosa, ricordate di quella slide in cui avevamo i tipi primitivi piuttosto che i riferimenti a oggetti, array e funzioni. Ok? Quindi chiaramente qui a destra le virgolette servono perché in questo momento sto dichiarando delle stringhe. Se non metto le virgolette, qui a destra prendo il contenuto della variabile che si chiama Enrico. Ok? E se non esiste ovviamente è un problema. Ok. Quindi abbastanza intuitivo, il sistema è simile a quello degli altri linguaggi, dobbiamo solo tenere a mente che l'oggetto si crea in maniera indipendente da una definizione che non esiste di classe. Classe nel senso di quella che è proprio dei linguaggi a oggetti che più conoscete, c++, java e così via. Beh, le proprietà devono essere uniche, quindi questo non ci sorprende, se no non riusciamo a farci accesso, ovviamente. se no avessimo due con lo stesso nome. La cosa interessante, come dicevo, possono essere aggiunte e rimosse anche dopo che l'oggetto è stato creato. quindi per aggiungere basta assegnare un valore e automaticamente si crea quella proprietà, per rimuoverla avremo una parola chiave apposta, delete, devo dirvi che questo secondo caso è più raro, però eventualmente se necessario si può fare. Lì le proprietà possono riferirsi a qualsiasi valore, come abbiamo detto prima, sono dentro l'oggetto, possono essere tipi primitivi, ma anche riferimenti a array, oggetti o funzioni. Nel momento in cui sono riferimenti a funzioni, diciamo che noi comunemente per gli altri linguaggi di programmazione li chiamiamo metodi, perché li possiamo invocare, mentre non possiamo invocare un array o un altro oggetto. Quindi vediamo questo esempio, definiamo un oggetto, apriamo la graffa, chiudiamo la graffa, le proprietà sono queste a sinistra, vedete qui sono nomi senza le virgolette, ma sono string che determinano il nome della proprietà, se sono particolari, per esempio contengono i caratteri, diciamo che potrebbero generare confusione per il parse di javascript, come lo spazio e così via, ovviamente dobbiamo racchiudere tra graffi, e tra virgolette. Due punti, il loro valore, e posso mettersi qualsiasi cosa. Cosa faccio di questo oggetto? Questo oggetto lo assegno ad una variabile, nel senso che questa variabile conterrà riferimento a quell'oggetto. Vedete il Python Tutor cosa ci fa? Questi sono screenshot del Python Tutor, se prendiamo il codice lo incolliamo al Python Tutor, viene fuori questa cosa a destra, magari lo facciamo una volta per tutte, tanto per provare. In Booker non c'è un valore, c'è un riferimento che è indicato da questa freccia a questo oggetto, in cui le cose sono listate in questo ordine, ma l'ordine non è significativo, perché non è detto che resti quello. Quando io vorrò stampare tutte le proprietà del mio oggetto, attraversare il mio oggetto e vedere tutte le proprietà, l'ordine può essere qualsiasi, perché è una collezione non ordinata di proprietà con il loro valore. E poi per fare accesso alla classica sintassi punto, comune a tanti linguaggi di programmazione, ma anche quadre con il valore, quindi la stringa che corrisponde al nome della proprietà. E questo è molto utile nel momento in cui ho voluto usare dei nomi un po' particolari, perché non posso scrivere punto, chapter, spazio, pages, perché il parser di JavaScript mi va in crisi, perché trovo lo spazio e penso che ci sia un'altra istruzione e così via. Quindi posso leggere, posso scrivere, niente di particolare. Di fatto, se vogliamo fare un paragone con altri linguaggi di programmazione, possiamo vedere gli oggetti JavaScript come dei cosiddetti array associativi. Cosa sono gli array associativi? Sono degli array in cui l'indice può essere qualsiasi cosa, può essere nel nostro caso sostanzialmente anche una stringa, non necessariamente un numero. Ok? Posso cancellare le proprietà tramite il delete. Con questa sintassima vi dicevo un po' più raro, perché di solito sono informazioni che voglio mantenere. Mi raccomando, fate attenzione alla sintassima, ve ne accorgerete quando debagate i vostri programmi. Quindi, chiaramente, se mettiamo le virgolette, vuol dire una cosa, nel senso, il nome, questo è il nome della proprietà, quindi book, oggetto book, ha una proprietà di nome title. Se invece tolgo le virgolette, vuol dire che una variabile title, che presumibilmente contiene una stringa, che sarà quella che è il nome della proprietà che voglio andare a prendere dentro book. Ok? Ok, non c'è, non posso fare l'equivalente con la notazione punto. Se devo fare questa operazione di accedere ad una proprietà di un oggetto, il cui nome è contenuto in una variabile, devo per forza usare la notazione con le quadre, non si può fare col punto. Ok? Richiamo la vostra attenzione su questa cosa a sinistra, perché ci tornerò utile più avanti quando programmeremo in ambiente web con React, eccetera, scriveremo gli event handler e così via. Posso assegnare facilmente un valore ad una proprietà il cui nome è contenuto in un'altra variabile. Cioè, se io apro le quadre qui a sinistra del due punti, quindi queste quadre che ho messo in rosso, ho acceso la registrazione, sì, scusate, ogni tanto mi viene... Ecco, accedo a questa proprietà tramite queste sintassi con le quadre e quindi non ho bisogno, diciamo, di scrivere del codice particolarmente complicato per andare a fare quest'operazione. Posso scriverlo direttamente e anche direttamente crearla nel momento in cui creo un oggetto, quindi aprendo le graffe e aggiungendola direttamente in questo modo. Posso fare cose anche più complicate, perché di per sé dentro le graffe posso mettere anche un'espressione, cosa che vi sconsiglio, perché chiaramente poi il codice diventa molto poco leggibile. Se avessi, che so, voglio recuperare l'indirizzo da un form o tre righe, posso fare address 1, address 2, address 3, però devo fare un po' attenzione a limitarmi, perché questo modo di programmare è sempre un po' pericoloso. Pericoloso nel senso di gestione, non perché non funzioni, ma perché poi c'è questo i, non so più quanto vale, o l'ho messo in un for, chissà cosa sta succedendo e così via. Ancora una cosa, poi andiamo a fare un po' di esempi sugli oggetti. Se una proprietà non è definita, succede come con una variabile. Una variabile che non ha un valore viene fuori undefined. Quindi, se io cerco di fare accesso ad una proprietà che non esiste nell'oggetto, mi viene fuori undefined. Se non sono sicuro, o devo fare accesso, ma non so se qualcuno ha messo un valore oppure no, ha creato la proprietà, devo fare un check, cioè un controllo. Come faccio? Mi ricordo semplicemente che undefined è uno di quei valori che è cosiddetto falsi, cioè se lo metto in un if mi dà falso e quindi posso fare un test semplicemente con un if. Questo è utile nel momento in cui io devo fare magari accesso a una proprietà che contiene un riferimento a un altro oggetto, che contiene un riferimento a un altro oggetto e così via. Nel momento in cui trovo l'undefined devo fermarmi perché se faccio poi accesso con la denotazione punto su qualcosa che è undefined questo diventa un errore, non è più a sua volta undefined e il programma prosegue e basta. È un po' l'equivalente, se volete, in Java del null pointer exception o in C di referenziare un puntatore nullo. Non so più dove andare, il programma non sa più dove andare e che cosa fare. Quindi o si fa il test oppure si può usare anche questa notazione di nuovo molto idiomatica di JavaScript in cui prendo il valore a destra solamente se il valore a sinistra è vero. Quindi valuta vero quando uso quelle regole truth e falsi. Quindi sostanzialmente diciamo che su una riga sola mi scrivo i due if per verificare che effettivamente sia stato settato sia book, quindi non sia qualcosa a cui non posso fare accesso, poi ci sia la proprietà author e se c'è la proprietà author prendo il valore surname e quindi cognome. Ok. Finiamo il discorso sugli oggetti e poi proviamo in pratica. Posso girare sulle proprietà e vi ricordate che quando abbiamo parlato del for abbiamo detto il for si può usare o come nella maniera più tradizionale diciamo tipo C inizializzazione, test, incremento quindi i uguale a 0, i minore, i più più oppure c'erano altre due notazioni c'era il for in e il for off. Il for off abbiamo detto lo otteniamo per gli array il for in itera quindi gira sulle proprietà dell'oggetto quindi è quello che ci serve in questo caso. Abbiamo detto non usatelo sugli array. quindi nel momento in cui giriamo su un oggetto che possiamo anche mettere direttamente qui nel codice senza averlo definito prima vedete javascript è molto flessibile in questo senso a girerà sui nomi delle proprietà dell'oggetto vedete l'esempio ci da x e y mi raccomando non ci da 0 e 3 gira sui nomi delle proprietà dell'oggetto se voglio poi posso usare il nome della proprietà per andare a fare accesso al suo valore è come nell'esempio a destra faccio prop in book prendo proprio il nome della proprietà e poi posso fare accesso book aperta quadra prop non posso mettere il punto ma aperta quadra prop mi dà il valore della proprietà niente di particolare notate la notazione l'abbiamo intravisto un po' rapidamente l'altro ieri che abbiamo finito un po' in fretta questo è un template literal quindi usa i backtick non usa l'apice singolo non usa l'apice doppio usa questa notazione per definire una stringa in cui posso usare questa sintassi dollaro graffa che può contenere un'espressione javascript sostanzialmente diciamo tipicamente la usiamo per inserire una variabile di cui viene preso il valore ok quindi prop o piuttosto book prop è vero che potremmo usare anche espressioni più complesse ma come abbiamo detto prima cerchiamo di non fare troppi pasticci per nostra comodità più che altro l'interprete non è che si confonde mai ok quindi può venire comodo usare questo sistema altrimenti avremmo potuto scrivere prop più spazio più virgolette spazio uguale spazio virgolette più book prop quindi costruirci noi la stringa concatenando tre stringhe diverse le variabili più la stringa fissa con l'uguale ok abbiamo diversi modi poi di gestire gli oggetti esistono dei metodi predefiniti in javascript noi qui vi facciamo vedere le cose più utili posso avere tutte le chiavi quindi vuol dire tutte le i nomi di proprietà del mio oggetto col metodo keys di object questo object è un oggetto predefinito in javascript che è già disponibile nel momento in cui il programma parte è un po' come math con le sue operazioni matematiche come array perché era il nuovo array abbiamo visto array from array off eccetera quindi ci sono un tot di oggetti predefiniti nell'ambiente che possiamo utilizzare quindi hanno dei metodi keys va a prendere tutti i nomi di proprietà entries mi crea delle coppie nome valore una per ogni proprietà ok e quindi ecco copia copia poi proviamo eh eh sì a un certo punto ci fermiamo se no non fiamo più ok ehm copia l'oggetto eh all'oggetto abbiamo un riferimento eh quindi se copiamo quel valore del riferimento stiamo avendo un secondo riferimento allo stesso oggetto è lo stesso problema che avevamo con l'array se vogliamo creare l'oggetto intero eh duplicare l'oggetto intero dobbiamo o crearlo noi a mano con quindi creare un oggetto vuoto aggiungerci le proprietà con un for in e girare su tutte le proprietà ovviamente scomodo oppure andare a vedere se c'è qualcosa di più comodo a disposizione di una libreria javascript per fortuna c'è si fa in questa maniera oggetto assign aperta e chiusa graffa cioè l'oggetto vuoto oggetto vuoto e poi gli diciamo di metterci dentro tutte le proprietà di questo altro oggetto che è book ma copiandole ok quindi viene fuori questo che vedete a destra cioè all'inizio c'è un oggetto vuoto poi nel momento in cui eh oggetto assign viene eseguita eh aggiunge le proprietà author e pages all'oggetto vuoto tanto abbiamo detto che gli oggetti sono dinamici possiamo in qualsiasi momento aggiungere e togliere proprietà non c'è problema a creare l'oggetto vuoto perché posso aggiungere proprietà quando voglio ok eh quindi questa è la sintassi assign target a sinistra eh source a destra tra l'altro può esserci anche più di un source quindi posso fare il merge di più oggetti eh ecco il target se è un oggetto esistente vengono aggiunte le proprietà eh e se è un oggetto vuoto vengono create ma insomma sta un po' a voi decidere che cosa fare ritorna l'oggetto target eh eh per comodità eh perché di per sé beh se lo creo col new object e non do una variabile chiaramente se non me lo ritorna diventa difficile avere il riferimento all'oggetto se invece esiste vabbè ce l'avevo già attenzione si fa solo una copia certascello cioè non in profondità non è ricorsiva la copia se una proprietà dell'oggetto eh dunque eh qui stiamo copiando study e tu eh ok quindi study e topic javascript source book quindi book è un riferimento a un altro oggetto non è che mi viene duplicato anche l'oggetto book semplicemente viene duplicato il riferimento cioè viene copiato riferimento l'oggetto diciamo così più profondo eh al secondo livello di indirezione rimane unico se lo devo fare eh devo fare questa copia completa devo o scrivermi un metodo per conto mio che ricorsivamente vado a vedere se quello che c'è è un riferimento a qualcos'altro quindi me lo duplico oppure andare a cercare se nella libreria esiste qualche cosa tipo deep copy o così o così via onestamente non so dirvi se in javascript standard esiste non mi sembra però può darsi che in qualche ultima versione di javascript abbiano aggiunto ritorniamo a quello che dicevamo l'altra volta bisogna un attimo vedere se il nostro interprete è in grado di di gestire questa nuova versione se no dobbiamo o cambiare interprete oppure caricare magari una qualche libreria modulo eccetera come vedremo che ci definisca questa funzione così ce la mette a disposizione e la possiamo semplicemente usare ok quindi ok le delle proprietà faccio il merge quindi se c'è una nuova proprietà viene aggiunta ma questo non direi che non è non è così difficile a capire quindi questa assign ha la possibilità di avere più di un oggetto mano a mano le proprietà di questo oggetto vengono aggiunte al primo ok quindi niente di particolare insomma guardo solo ecco vabbè finiamo visto che siamo arrivati qui ultima cosa e poi proviamo con gli oggetti c'è la possibilità di lavorare come gli array con quell'operatore che abbiamo visto la volta scorsa i tre puntini questi tre puntini che sono il cosiddetto spread quindi che elencavano esplicitamente tutti gli elementi dell'array se li mettevo a destra dell'assegnamento oppure mi raggruppavano tutto in un'unica variabile di tipo che puntava ad un array una variabile non ha un tipo quindi una variabile che punta un nuovo array se lo metto a sinistra dell'assegnamento cioè tutto ciò che non voglio scorporare dall'array mi viene compattato con lo spread oppure espanso se lo metto a destra dell'array della quale la stessa cosa funziona con gli oggetti iterando ovviamente sulle proprietà questa è una cosa un po' più nuova non è s6 quindi tutte le volte che non siamo s6 lo diremo specificamente è una cosa un po' più nuova del linguaggio però è molto comoda è per questo che la evidenziamo e anche diciamo è abbastanza supportata quindi non dobbiamo farci troppi problemi né quando lo useremo in node che direttamente nelle ultime versioni ce la supporta né quando avremo il nostro progetto react e così via perché vedremo che poi quando react crea il suo il suo progetto diciamo fa in modo che quando esegue il codice ci è in in grado di eseguire del codice javascript scritto in maniera appunto più moderna quindi per versioni più recenti di javascript eventualmente traspilandolo automaticamente per la versione adatta per il browser che è tipicamente le s6 ok però è del tutto trasparente per noi quindi il messaggio è fondamentalmente noi possiamo usare queste nuove sintassi senza preoccuparcene troppo ecco a meno che non siamo proprio l'ultimissima versione allora bisogna un attimo fare attenzione magari l'ultimo node non è ancora aggiornato e così via però noi siamo sempre sull'ultimo e quindi diciamo più di così difficilmente riusciamo a fare in maniera semplice ecco quindi in parole povere vogliamo copiare un oggetto anziché fare object assign graph eccetera eccetera apriamo le graffe spread vecchio oggetto ok viene creato un nuovo oggetto nuove proprietà con i valori sempre shallow copia come prima perché vengono copiati i valori e se sono dei valori di tipi primitivi sono immediatamente copiati non è un problema un numero un altro numero indipendente se sono dei riferimenti viene copiato lo stesso identico riferimento quindi l'oggetto l'array eccetera sono lo stesso ok e funziona come quello degli array quindi funziona sia a destra dell'uguale quindi mi espande il contenuto e anche a sinistra quindi mi compatta il contenuto in un'unica variabile escludendo ciò che tolgo a b e poi c e d vanno a finire in un unico oggetto perché ho messo lo spread con un'unica variabile a a sinistra dell'assegnamento ok e questo ve lo dico non tanto perché ci piace come dire lavorare e scrivere il codice più incomprensibile possibile di javascript ma semplicemente perché ogni tanto ci viene estremamente comodo questa sintassi per evitare di scrivere tanto codice ma anche perché quando passeremo per esempio i parametri alle funzioni e così via in react e soprattutto magari passiamo degli oggetti che contengono delle proprietà ci interessa solo una proprietà noi possiamo semplicemente tirarla fuori in questa maniera quindi la proprietà che ci interessa virgola spread e tutto il resto e tutto il resto lo dimentichiamo e la nostra proprietà è tirata fuori automaticamente ma alla nostra funziona abbiamo passato l'oggetto intero quindi non dobbiamo fare il match come si fa in certi altri linguaggi che sono in C per dire dove ci sono tre parametri devo passare quei tre parametri se uno è un intero un altro una stringa eccetera non è che posso passare cosa mi pare deve essere del tipo corretta nella posizione corretta e così via qui invece è tutto molto più dinamico si riesce a agganciare solo quello che serve senza dover modificare il fatto che passiamo l'oggetto intero e che cosa mi passa chi chiama la mia funzione ok quindi l'idea di vedere questi operatori questi messi in tassi è proprio questa di poterle poi utilizzare per semplificare il nostro codice dopo c'è una domanda grazie dunque le quadre le quadre funzionano con con l'array però qui se ha segno potremmo provare facciamo una prova probabilmente viene non so facciamo una prova così dai introduciamo la vediamo di andare a vedere l'ambiente di sviluppo intanto eravamo praticamente alla fine c'era solo due cose ma le possiamo dire anche dopo allora apriamo il viso studio code io l'ho già aperto stamattina avete visto prima che arrivasse però diciamo apriamo il viso studio code quindi l'avrete installato un pacchetto che si scarica e si facilmente si installa fondamentalmente secondo della distribuzione in linux avete il vostro pacchetto .deb .rpm e così via no e e e dovete solo farci doppio clic dare il permesso dell'amministratore di installare ed è installato e lo lanciate o dal menu o con code dal terminale allora partiamo da zero mettiamoci nelle condizioni in cui ho chiuso tutto quindi apro il mio viso studio code e sono in questa condizione nuovo mai installato appena installato la prima cosa che faccio è aprire una cartella ok open folder dove voglio lavorare ok io ho preparato una cartella qui sul computer av1 wix wix01 che è la stessa che poi trovate sul git così mano a mano che andiamo avanti posso anche fare il commit push ve lo trovate già direttamente sul vostro computer se fate il pool quindi apro questa cartella che ho già creato nel file system dove voglio mettermi a fare le mie prove adesso qui dentro c'è già un file ma di per sé poi posso creare un altro file test spread gs lo chiamo gs così il viso studio code capisce che codice java scritto e mi attiva tutte le funzionalità utili per fare per evidenziarmi la sintassi javascript e così via e capisce che poi quando lo lancio voglio lanciare un javascript eccetera ok allora io avevo preso quel codice del vostro collega prima ecco io vi consiglio sempre anche se in questo esempio è banale no però use strict mi raccomando non scordiamocelo che ci salva da tanti problemi anche come dire rognosi consentitemi di dire che possono capitare e poi facciamo console log a b others quindi io copio incollo direttamente dalle slide come vedete non facciamo solo attenzione che ogni tanto fare il copio incollo dai pdf magari spunta un carattere strano qualcosa che sembra uno spazio uno a capo non lo è poi eseguiamo il trattino magari un trattino lungo non quello corto pensiamo che sia almeno diventiamo matti a capire cosa c'è che non va e c'è solo questo carattere che non è quello che ci sembra dal 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 dalla visualizzazione quindi salvo giusto per farvi vedere salvo ma in realtà quando eseguo poi si salva da solo se lo faccio dall'ambiente prima cosa vi faccio vedere come eseguirlo dal terminale che è la cosa più semplice e anche più affidabile ok quindi terminal new terminal qui sotto mi spunta una finestra partiamo un po' più su visto che dopo devo mettermi qui per la lunghezza dei cavi e il fine scrivania quindi sono un po' davanti quindi questo è un terminale che è l'equivalente del terminale che potete aprire fuori nel vostro sistema operativo quindi è lo stesso tipo solo che per comodità ce lo mettono anche integrato così se dobbiamo dare un comando è già lì noi diamo il comando nod test spread non scrivo così in fretta spero che oramai siete un po' pratici con linux se scrivete qualcosa e poi battete il tasto tab mi fa il completamento nel terminale e quindi si fa un po' prima lo eseguo questo è il risultato ho fatto 3 console log 1 2 c 3 d 4 quindi ho stampato a b others ok quindi ho semplicemente eseguito l'esempio e non ho fatto niente di speciale finora il vostro collega ci chiedeva se io mettessi qui un array ok e eseguisse il codice cosa succede proviamo ho fatto ctrl s quindi ho salvato di nuovo mi raccomando non dimenticatevi di salvare se no ovviamente eseguite il programma vecchio ok adesso vediamo non si può fare questa è la risposta dunque perché evidentemente non è iterabile nel senso di array l'oggetto infatti noi giriamo col for in e non col for off se vogliamo metterla in termini qualcosa che abbiamo già visto ok quindi la risposta al vostro collega è non si può fare con le quadre perché la sintassi sostanzialmente quando metto le quadre a sinistra evidentemente si aspetta di trovare un oggetto iterabile in una certa maniera a destra che non trova perché ho un scusate ho detto oggetto in realtà ho un elemento perché è un oggetto e non un array se dico oggetto implicitamente dico già che è un oggetto però tenevo una cosa generica che è un array e non un oggetto ok quindi se voglio che funzioni devo mettere le graffe se torno alle graffe ovviamente torno a prima e funziona quindi risalvo e il puntino qui vuol dire che non ho salvato se salvo e rieseguo torniamo a prima ok quindi grazie per la domanda così intanto abbiamo visto qualcosa e proviamo poi qualcosina più avanzato finiamo solo il discorso e poi appunto ci concentriamo su qualche esempio dunque 11 ma non solo più due slide c'è ancora l'operatore in da parte semplicemente per verificare se una proprietà esiste oppure no quindi se noi abbiamo un'espressione tipo be in no scusate questo è un array ma non voglio fare questa cosa guardiamo a sinistra author in book mi verrà fuori true ok se lo cancello non c'è più ovviamente mi verrà fuori forse attenzione non usarlo con gli array perché non funziona come ci aspettiamo gli array non hanno proprietà o chiave uguale valore hanno solo un valore quindi questo in non funziona come ci aspettiamo quindi b in v non è come per dire in python dove questa sintesi funziona per gli array ma deve essere una proprietà b non è una proprietà dell'array mentre invece p è una proprietà di mat che è un oggetto e quindi in funziona per le proprietà ok se voglio sapere se c'è b in v mi faccio il giro col for e vedo se c'è nell'array oppure vado a vedere nella libreria standard di javascript per gli array mi sembra che ci sia un index of o qualcosa di simile che mi fa la ricerca per conto mio ok quindi l'in funziona ma solo per gli oggetti come facciamo a creare gli oggetti questo è solo un riassunto un metodo l'abbiamo già visto apriamo le graffe quando apriamo le graffe creiamo un oggetto può essere vuoto può esserci dentro qualcosa ok oppure diciamo i tre metodi un po' meno usuali beh l'ultimo forse un po' di più però i due metodi meno usuali sono quelli di usare l'oggetto predefinito a disposizione nell'ambiente object quindi fare new object oppure object.create e di fatto mettere la stessa cosa dentro come parametro allora per scrivere object.create è la stessa cosa tanto vale usare la notazione più compatta che è anche più più facile da ricordare oppure poi ci sarà la funzione costruttore di cui però parliamo quando parliamo delle funzioni cioè un po' più tardi stamattina dopo ci sono le funzioni ne parliamo allora io direi di fare qualche esempio quindi possiamo da un lato questi esempi li potete replicare facilmente col python tutor o javascript tutor chiamatelo come volete insomma incollando questo codice nella python tutor possiamo anche fare la prova però ve lo lascerei da fare per conto vostro più che altro perché insomma dovremmo aver acquisito il concetto in questo momento python tutor se abbiamo internet che funziona senza problemi sì ok allora incolliamo questo codice sì ok devo solo fare un attimo attenzione col python tutor come abbiamo visto l'altra volta però vi fa vedere come funziona book lo creo e si crea un riferimento all'oggetto no stadi crea un altro oggetto e ho messo book e quindi in book mi ha messo riferimento al precedente oggetto stadi 2 object assign al nuovo oggetto stadi scusate crea un nuovo oggetto e poi prende tutte le proprietà di stadi e ce le copia dentro quindi tutte le proprietà di stadi quindi queste topic e source e ce le copia dentro che source riferimento allo stesso oggetto niente di particolare insomma avete visto che è abbastanza banale ok quindi direi che possiamo andare a fare magari qualche esercizio con che abbiamo lasciato un po' indietro l'altra volta quindi con con array e magari inseriamo qualche oggetto ogni tanto così intanto facciamo pratica quindi facciamo esempio 6 ecco quindi proviamo a farci facciamo un altro file e faccio file diversi così poi alla fine faccio commit e ve li ve li lascio direttamente già nel reposito di github diciamo esempio beh esempio spread in realtà abbiamo già fatto array spread così quindi use strict sempre prima cosa strict e poi e poi facciamo un po' di prove con gli array quindi let a uguale qui abbiamo 1 copio l'esempio ma tanto fa lo stesso 4 9 16 ma giusto per dare dei numeri che non siano 1 2 3 4 ok io metto sempre il punto e virgola alla fine come abbiamo raccomandato di fare vedete poi voi però almeno inizialmente magari cominciate a mettendolo poi se vi sentite più sicuri potete provare come dire a trovare il vostro modo di programmare ehm allora console poi proviamo anche a debuggare un pochettino con l'ambiente così vediamo come funziona il debugger ehm però all'inizio almeno partiamo con un qualcosa di semplice eh adesso salvo eseguo node dunque questo l'ho chiamato arrayspread semplicemente mi stampa il mio array eh niente di particolare ehm cosa posso fare posso usare qualcuno di quei metodi che l'altra volta abbiamo semplicemente solo accennato non ho neanche letto eh per esempio io sugli array ho tutta una serie di metodi a disposizione se io schiaccio vedete a punto ho tutta una serie di metodi ah no in realtà però qui potrebbe essere un po' più esteso vabbè ehm no non mi vengono fuori tutti quanti va bene eh allora andiamo sulle slide le slide che erano queste quindi non sui metodi stringa ma sui metodi degli array ecco vedete l'altra volta abbiamo tirato un po' veloci su questi metodi come sulle stringhe perché ci mancava il tempo stamattina ne abbiamo un po' di più io vorrei farvi vedere che ci sono dei metodi che lavorano creandoci un nuovo array e dei metodi che invece lavorano modificando l'array ok quindi fate sempre attenzione al metodo che usate se creato un nuovo array ovviamente diventano due no pensate al python tutor ci sono due array in quel disegnino altrimenti resta lo stesso che è stato modificato ehm ok proviamo il metodo join eh quindi unisce tutti gli elementi di un array in una stringa giusto per fare qualcosa di un po' interessante coinvolgere le stringhe e così via eh quindi ehm quindi purtroppo non sempre escono eh diciamo sì ah grazie sei gentilissimo quindi eh però quindi un'estensione giusto ecco allora magari facciamo un passo indietro nel viso studio eh code il viso studio code ecco grazie è una cosa è un sistema molto flessibile no eh quindi ha tanti estensioni plug in e così via eh ci sono delle cose di base io ho installato solo il viso studio code eh in cui ho diciamo questi cinque elementi sulla sinistra in cui funzionalmente uno mi fa vedere i file eh gestire i file una cartella a creare eccetera uno per cercare uno per il version control quindi git e così via uno per debattare uno per le estensioni ok eh s6 eh quindi adesso proviamo a installarci l'estensione ehm qui ne diceva questo vero? sì qui purtroppo ogni anno le cose un po' cambiano tra l'altro effetti dobbiamo un po' adeguarci allora io adesso avete visto ovviamente deve essere connesso a internet no? perché se lo scarica è un pacchettino eh però ha schiacciato install buon eh si è installato adesso vediamo se effettivamente eh ha dovuto riavviare quindi appunto proviamo eh appunto il vostro collega ci dice riavviare noi allora salviamo il file per non perdere niente e poi chiudo eh riapro il visual studio code che dovrebbe essere così gentile da ricordarsi cosa c'era aperto quindi è anche comodo per questo motivo eh ops ho sbagliato punto ecco grazie gentilissimo eh ci ha fatto notare appunto che per eh avere suggerimenti ci va eh bisogna che il visual studio code sia cosciente del fatto che vogliamo programmiare in s6 quindi gli oggetti hanno certe proprietà e così via e quindi troviamo il join eh ok join poi vabbè a noi viene qui fuori diciamo un help eh o eh ci basiamo su quello che è scritto sulle slide eh vi abbiamo dato una indicazione di massima sostanzialmente oppure cosa facciamo quando siete da soli per conto vostro avete la vostra funzione e così via abbiamo dato delle risorse inizio corso io direi che la più utile in questo momento è la Mozilla Developer Network quindi developer.mozilla.org eh in cui eh sostanzialmente possiamo andare a a cercare quello che ci interessa eh array join eh e ci viene fuori tutta la spiegazione adesso lo ingrandisco un po' sì ci vuole fuori tutta la spiegazione del metodo eh quindi il metodo crea e ritorna una nuova stringa concatenando tutti gli elementi dell'array o un un oggetto tipo array ne parleremo separati da quello che diciamo di separare credo di default ci sarà la virgola oppure da quello che gli abbiamo messo eh come separatore trattino spazio quello che vogliamo quindi se c'è un solo elemento verrà ritornato senza separatore sintax paramet return eccetera ci sono anche degli esempi quindi abbastanza utile è abbastanza ben fatto questo è il motivo anche perché per cui lo consigliamo eh e quindi quando non sapete dove andare a cercare questo riferimento eh non andate nello standard perché non serve a niente eh lo standard serve proprio in quei casi un po' particolari in cui non so eh cosa è previsto nello standard per quello specifico caso prendo per esempio ho visto nel corso in inglese il professor De Russi su uno ha chiesto eh ma quando metto il doppio uguale è il numero che viene convertito in stringo o la stringa che viene convertita in numero eh boh allora vado a vedere sullo standard e lì effettivamente c'è però una lista alta così di casi perché non c'è solo il numero stringa c'è il boolean agli oggetti eccetera no e allora vi dice effettivamente cosa prevede lo standard eh però a parte questi casi molto specifici no di solito ce ne accaviamo con queste pagine e lasciatemi dire di manuale di documentazione magari guardando l'esempio eh oppure addirittura provando no come come per esempio con il caso del doppio uguale potremmo semplicemente provare e vedere cosa cosa succede ok allora abbiamo il nostro join e eh noi diciamo di concatenarlo mettiamo lo spazio eh proviamo con lo spazio ok salvo vediamo cosa viene fuori esegue sempre la stessa 1 spazio 4 1 9 spazio 16 ok eh ok spero si si vede un pochettino purtroppo ecco facciamo così così va su eh ovviamente posso fare quello che voglio eh nel senso che eh appunto è una normale funziona abbiamo visto che nella descrizione che cosa fa eh e via eh quindi eh perché se faccio console log e basta mi viene fuori questa come dire bella stampata e invece devo farmi io il join con le virgole eccetera perché la stampata diciamo il comportamento di default del log nel momento in cui trova un array eh eh invece con i miei metodi decido io sto creando io una stringa che poi posso manipolare come mi pare invece quello che esce da console log è finito sul terminale e non è che ce l'ho a disposizione in una in una variabile no se io avessi eh mettiamo eh non so eh a string eh ovviamente non posso scrivere così devo mettere almeno ho letto const adesso magari diciamo due parole su letto const eh 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 sì c'è una graffa una tonda di troppo eh console log eh a string eh ovviamente io ho una stringa no quindi il risultato è lo stesso ma una stringa manipolabile eh come come desidero proviamo magari a eh debaggarlo eh così impariamo anche un po' il debugger quindi io sono andato qui a sinistra ho messo un breakpoint come si fa? semplicemente esce questo pallino rosso a un certo punto schiaccio sull'istruzione dove voglio che mi fa fermarmi nel momento in cui eh eseguo il programma e poi e poi devo andare ehm nella sezione apposta eh per fare eh l'esecuzione run o debug farà run se non metto nessun breakpoint e farà il debug se c'è un breakpoint e si ferma quel punto lì quindi la scelta come dire è implicita e eh dunque allora lasciamo solo quello che ci interessa è un po' ogni tanto è un po' difficoltoso il motivo per cui se potete secondo me la cosa migliore è eseguirlo dal terminale eh ehm però diciamo fino a che non creiamo una configurazione di esecuzione ho visto che il il code è un po' è un po' macchinoso ogni tanto cioè non ci esegue esattamente quello che vogliamo eh dobbiamo dire vedi con node ho provato prima di fare run current file che deve essere quello aperto e credo che dovrebbe funzionare ok ci ha eseguito array spread ecco perché il problema è quando abbiamo più programmi nella stessa cartella no che chiaramente se no potremmo creare una configurazione di esecuzione c'è sempre solo quel programma e via eh ecco vedete cosa succede eh è come un normale debugger no io sono fermo su un'istruzione eh ho i bottoni per andare avanti entrare nelle funzioni eccetera eccetera qui sulla sinistra la possibilità di ispezionare le variabili eh perché non va giù eh chiudiamo il watch ok tanto non ci serve eh quindi qui a sinistra la possibilità di vedere le variabili sono su questa questa istruzione ok vado avanti a diventa un array di 4 elementi 1,4,9,16 eh poi posso anche andarmeli ispezionare e così via insomma è un normale debugger più o meno sofisticato ok console.log a qui sotto c'è la debug console et a string eh viene fuori eh 1,4,9,16 vedete come una stringa eh vedete la differenza da sopra a sotto sopra un array sotto una stringa e poi mi stampo la mia stringa quindi eh niente di di particolare ci sono poi tutta un'altra serie di di cose che però diciamo non ci interessano nel momento in cui eh non non le utilizziamo eh eh quando quando ci sarà necessità andremo a vederle eh però tendenzialmente il debugger ci serve a risolvere ma i funzionamenti che non capiamo come in qualsiasi altro linguaggio di programmazione che non riusciamo facilmente a risolvere mettendo un po' di console.log di qua e di là eh quindi magari c'è non so un ciclo un qualcosa noi pensiamo venga eseguito invece proviamo col debugger non viene eseguito non si entra nell'if e così via se vediamo il passo passo ci facilita la comprensione ok ehm ok facciamo ancora un po' di esempi che so let c uguale eh possiamo avere array di qualsiasi tipo eh eh qui avevamo messo abc eh nell'esempio che ho sotto mano quindi è un array di tre stringhe non sono caratteri sono stringhe in javascript esistono solo le stringhe eh non esistono i singoli caratteri eh eh ecco eh ah sì let eh sì vabbè scusate mettiamo let b eh così poi non copio sbagliato eh e e non faccio pasticcio non faccio troppo pasticcio let c a eh no cos'è eh sì a con cat b ok quindi questo è un metodo a a è un array è quello di prima con cat è il metodo qui a sinistra che ritorna un nuovo array eh quindi mi crea un nuovo array e metto insieme due array così eh tiriamo fuori il nuovo array che sarà l'insieme dei due precedenti console log eh c eh quindi salvo eseguo quindi vado sul terminal eseguo e vedete che l'array è 1 4 9 16 abc è andato a capo penso solo per per comodità eh perché perché è previsto così eh ma di per sé è un array di 7 elementi potremmo anche provare nel debugger quindi facciamo un giro nel debugger eh vedete che il c è di 7 elementi eh ok 1 4 9 16 abc eh e gli array possono contenere come gli oggetti eccetera valori di qualsiasi tipo eh ok eh usiamo lo spread così facciamo un po' di pratica anche con lo spread allora faccio stop così fermo il debugger eh tolgo il breakpoint eh quindi diciamo let di uguale aperta quadra eh ma non so mettiamo quello che ci pare io qui avevo messo un asterisco eh diciamo se noi vogliamo inserire che so in un nuovo array il contenuto di un altro array ma non come riferimento ma come contenuto vero e proprio eh possiamo appunto usare quell'operatore spread che avevamo visto ieri quindi tre puntini e ci mettiamo cos'è b ok eh facciamo di nuovo il console log eh così di ok quindi ho salvato eseguo vedete è venuto fuori asterisco a b c asterisco e non è venuto fuori un riferimento come se io non avessi messo lo spread eh proviamo cosa mi stampa eh vedete che mi stampa l'array dentro l'array per farmi capire che quello è il riferimento e poi il console log è come dire furbo nel senso che non è che mi stampa il valore di un puntatore peraltro come farebbe il c no ma va dentro perché capisce che un array allora mi fa la stampa di tutto l'array però me lo mette dentro eh quindi nel python tutor sarebbe una freccia che va a un altro array ok con lo spread invece è come se noi avessimo fatto un array d che contiene asterisco poi avessimo fatto un for gira sull'altro array push quindi aggiunge elementi all'array eh e e alla fine ci ritrovi anche l'array che vogliamo ok eh vi faccio vedere ecco eh giusto per per completezza no eh avevamo dove erano gli altri eh ci sono dei metodi che invece lavorano in place i più comuni push pop shift and shift per aggiungere e togliere agli estremi no quindi se noi facciamo push per dire capisco che sono esempi un po' banali però all'inizio almeno dobbiamo incominciare a qualcosa di semplice eh di push eh che so mettiamo un più eh poi rimettiamo il console log dove è andato ok salvo eseguo e mi viene fuori il più alla fine questo è lo stesso array che è stato modificato qui non c'è un nuovo array ok di push no mi ritorna il nuovo array ok a me non adesso mi fate il dubbio se mi viene il dubbio se ritorna qualcosa però possiamo array push push andiamo a vedere se ritorna ok ritorna ecco per dire non mi ricordo più ritorna la nuova lunghezza dell'array quindi occhio che se lo assegniamo una variabile evidente c'è un numero non c'è l'array quindi non è che posso fare let nuovo array uguale di push e poi facci sopra un altro push perché quello è un numero ok quindi bisogna solo prendere un attimo la mano a che cosa fanno i vari metodi noi qui abbiamo ignorato il valore di ritorno perché non ci interessava se ne avete bisogno potete potete averlo vogliamo come ultima cosa ecco scriviamo cost ma e uguale spread anziché array di console.log e e questa è la maniera più semplice di copiare il contenuto di un array in un nuovo array dove sta il nuovo array il nuovo array esiste nel momento in cui ho aperto la graffa e poi il contenuto l'ho deciso con quello che c'è scritto dentro con lo spread di un altro array ci ho messo dentro un array quindi eseguiamo vediamo sempre se funziona ecco c'è il nuovo array e e cost ok cost let allora questo è un discorso diciamo di nuovo di di precauzione possiamo dire così quando abbiamo visto le variabili abbiamo detto senza dichiarazione quindi senza un var let const non si può in strict mode fine il var è un po' pericoloso perché lo definiamo a un certo punto ma esiste dall'inizio no? vi ricordate l'oysting si chiama no? quindi portare all'inizio la definizione quindi lo escludiamo ci resta let e const let è qualcosa a cui si può riassegnare un valore const no ok? cerchiamo di usare il più possibile const perché perché nel momento in cui allora o usiamo let perché siamo sicuri che vogliamo riassegnare un valore ma se usiamo const e poi assegniamo un valore almeno ci chiediamo è giusto che assegniamo un nuovo valore a questa variabile sì? va bene allora mi sono sbagliato ho scritto const metto let fine se non è giusto ho intercettato già un problema potenziale nel codice ok? notate che io non posso scrivere adesso e uguale che so 2 no? che so facciamo così metto un numero potremmo mettere una stringa o qualsiasi altra cosa no? questo non si può fare perché è un assegnamento a una variabile che io ho dichiarato const però occhio che io posso fare e di 0 uguale 2 eh? questo questo invece come vedete funziona ristampiamoci è giusto per la curiosità di vedere che è stato modificato eh? vedete che è stato infilato 2 al posto dell'asterisco const si riferisce all'assegnamento del valore della variabile eh? il riferimento è rimasto lo stesso perché l'array è sempre quello però è chiaro che se vado a modificare qualcosa puntato dal riferimento questo ovviamente nessuno mi protegge da questa cosa devo fare attenzione si? che succede se noi creiamo un let variabile si? poi reininiziamo questo array dentro quella variabile e lo sbagliamo lo sbagliamo quindi allora aspetti proviamo let f e cosa è che mettiamo? lo stesso array però let f uguale f eh ok ah con f a questo punto f f è lo stesso array di e può farci tutto quello che vuole nel senso eh è lo stesso contenuto e dunque espanderlo intende vuol farlo spread no ad esempio essendo contabile che consta in realtà il conto il puntatore consta il solo il puntatore esatto esatto no quindi io poi volendo posso fare f uguale 3 eh questo posso farlo eh quindi eh perdo eh ho fatto f ho copiato e lo stesso array ok e eh e poi f però può essere riassegnato a differenza di e che ho dichiarato const ok eh ancora una ehm sì facciamo un for eh non credo che ce l'abbiamo qui nell'esempio ma no vabbè proviamo lo stesso facciamo un'ultima cosa un for ehm ecco vi faccio vedere const eh val of e eh vai fa lo stesso un qualsiasi array va bene ehm ok console log val ok allora questo ve lo faccio vedere perché è un idioma un modo di scrivere eh abbastanza comune eh ho fatto un for e ho ehm fatto girare val su tutti i valori di e dell'array con l'off ok quindi quello dell'array non l'in che è quello delle proprietà dell'oggetto ok mi raccomando di non sbagliarci ecco cosa c'è di un po' curioso c'è che non ho scritto let val ok ho scritto const val quindi perché funziona perché in realtà ad ogni giro del for questa variabile val viene ricreata quindi è costante nel senso che io qui dentro non posso scrivere valo uguale 3 o qualcosa perché poi è costante non posso riassegnarla ma nel momento in cui viene creata e viene ricreata ad ogni giro del for quella può anche essere cost ok quindi ve lo dico solo per evitare che poi vedete in giro un cost dentro un for edite come fa a funzionare eh se invece io avessi usato un indice io uguale 0 i minore di possiamo anche farlo for let i uguale a 0 questo è proprio il classico ciclo c let i così vediamo la lunghezza e punto length senza le tonde è una proprietà i più più console log di cos'era e di i ok quindi è tutto un po' appiccicato possiamo fare console giusto per capirci un po' di più log di possiamo anche fare niente tanto mettere a capo da solo quindi ok così abbiamo la separazione abbiamo ristampato lo stesso array diciamo col sistema c abbiamo il nostro indice gira sui vari elementi dell'array a parte vedere la differenza della della scrittura e quindi questo è già molto più più macchinoso no ok che qui invece se io mettessi const chiaramente questa non funziona più perché al secondo giro è la variabile la stessa perché deve contare non è come quella di sopra che viene ricreata perché tanto ci pensa l'interprete javascript il node a ricrearmela perché sa che è un for off e ogni giro me la crea ok quindi occhio solo a queste cose adesso lo lasciamo funzionante ecco vi faccio vedere magari così intanto proviamo se tutto il meccanismo funziona come fare ad avere questo file visto che io ho lavorato nella cartella dove ho già predisposto diciamo il repository git eccetera posso farvi il push così va direttamente sul repository se voi avete fatto il pull dal git potete immediatamente scaricarvelo sul vostro pc quindi così vediamo diamo un occhio così rapidamente dunque ho fatto questo qui la ray spread come si fa a fare il push pull tanto sono cose semplici così rimane qualcosa registrato ma vedrete che insomma se avete problemi in laboratorio chiedete oppure sperimentate un po' per conto vostro tanto sul repository questo dove scrivo io posso scrivere solo noi non potete far pasticci quindi state tranquilli lo scaricate col clone eccetera potete lavorare tranquilli senza problemi non rischiate di far pasticci se volete aprite un vostro repository sul github dove paciocca per conto vostro fate tutti gli esperimenti che volete eventualmente cancellate il repository lo ricreate fate tutto quello che volete tanto per impratichirvi allora come funziona il git molto banalmente nel momento in cui ho collegato repository quindi questa è una cosa che io ho già fatto proprio in previsione di fare in aula questa operazione per mandare sul repository remoto quindi sul sito del github diciamo così che poi l'interfaccia web al git i file devo prima dire quali voglio mettere nel senso adesso questo è un nuovo file quindi lo aggiungo però anche se l'ho solo modificato devo comunque aggiungerlo a quello che metterò nel commit che poi mando sul sito di github ok adesso questa è la prima volta è un nuovo file va bene per forza è nuovo e viene aggiunto quindi io metto solo questo perché l'altro vabbè così vi faccio vedere ne metto uno solo devo mettere un messaggio di commit cosa ho fatto esempi su array ok poi mi sembra sia questo bottone o l'invio ha fatto il commit il commit però locale quindi questo ancora sul mio computer se voi andate su web non c'è in questo momento mi sembra che c'è un bottone dove voglio farvi vedere la storia come si devo fare il push ma volevo farvi vedere che localmente c'era però mi è sparito come francia stessa tag forse ho installato un'estensione va bene non fa niente ok devo fare push ok quindi push è l'operazione di spedire repository pull è l'operazione di prendere dal repository quindi io faccio push vedete ci mette un attimino si collega in rete se tutto funziona se ho impostato la password se eventualmente mi chiede username password e così via questa cosa l'ho già fatta adesso ho smesso e quindi io sul mio git hub quindi sul sito del corso nel nei repository che non sono il materiale che è comune a tutti non pacciocchiamo lì dentro se non quando ci siamo messi tutti d'accordo abbiamo messo tutti la stessa stessi esempi abbiamo il nostro repository del nostro corso av1 wix abbiamo wix 0.1 e vedete che adesso è spuntato il ray spread ok che potete andare a vedere o via web oppure se avete già predisposto tutto con git visual studio code eccetera potete semplicemente fare pull e vi compare localmente questo file ok e come vi dicevo non avete il permesso di fare push quindi potete fare tutto quello che volete tanto non rischiate di piantare pasticcio ok benissimo quindi adesso ce l'avete direttamente è il motivo anche per cui lo teniamo così così appunto se volete sperimentare direttamente con il vostro computer o provare qualcosa che non mi funzionava e così via potete potete farlo ok ecco esistono diversi diversi tab qui c'è anche appunto quello del git che vi fa vedere eventualmente comparisse un errore non sapete che cosa è successo provate ad andare a leggere lì magari vi dice credenziali errate mancano le credenziali cose di questo tipo insomma potete almeno cercare di capire cosa è successo quindi c'è il terminale quello che usavamo noi prima la console di debug quando lanciamo il programma col debug e poi ci sono altri altri tab che servono appunto a dare altri tipi di messaggi per altre funzionalità come appunto il git ok quindi noi possiamo tranquillamente tornare su terminale si qui sta l'ora allora direi che magari proviamo a fare vediamo se ci abbiamo abbiamo un esempio il book si ok possiamo allora torniamo sui file qui siamo sul git mi dice l'uno vuol dire c'è un file che hai modificato ma di cui non hai fatto il commit ok però se non vogliamo farlo lo lasciamo lì questi sono i file facciamo un cos'è che possiamo fare un ultimo esempio object examples così giochiamo un attimo con gli oggetti e poi facciamo scusate ho fatto una cartella come vedete file quindi quindi nel bottone qui object examples ok user strict noioso ma lo facciamo ok facciamo prendiamo appunto definiamo come c'era sulle slide book uguale questo è l'oggetto vuoto questo già funziona ok console log book ok quindi eseguiamo node questo è l'oggetto example ok oggetto vuoto per riempirlo come facciamo gli mettiamo le proprietà author enrico scusate virgola title due punti learning js avevamo fatto una proprietà anche un po' particolare no for students facciamo così for students poi vi faccio il commit di questo file come ho fatto prima pages quindi possiamo dare quello che ci pare dei numeri degli array chapter pages ecco se io voglio mettere qualcosa con lo spazio ovviamente devo mettere le virgolette se no da errore e posso metterci dentro quello che voglio proviamo un array tanto per per mettere vabbè qui abbiamo messo così 30 50 60 100 ok quindi ah scusate ho messo il punto virgola come vedete ce lo segna in realtà il punto virgola non si può mettere qui ma si deve usare la virgola perché la sintassi è quello che prevede è il nostro oggetto niente di particolare no diciamo qui sembra quasi sembra quasi codice che so python per dire se avete un po' di pratica con quello no ecco poi ovviamente possiamo fare accesso ai nostri elementi no quindi che so possiamo appunto let o const fa lo stesso vabbè fa lo stesso facciamo le pratiche va const persona uguale book punto author ok quindi questa è la maniera di usare le proprietà degli oggetti no posso anche creare cioè modificare i valori no book punto title advanced js ok posso cos'è che mi fa ok basta così posso creare una nuova proprietà facciamo così book book editor non lo so volito volito ok quindi salvo quindi c'è l'oggetto di prima c'è l'oggetto di adesso const persona non l'ho stampato però ho cambiato il titolo riassegnando il valore ho creato il volo una proprietà gli oggetti di javascript sono così volevo metterci editor c'è questo editor ok guardiamo guardiamo quella sintassi un po' curiosa che abbiamo intravisto sulle slide let's surname dell'autore avevamo visto che book book si è l'oggetto book punto author and then book punto author punto surname non c'è la proprietà surname su author author è una stringa non è un oggetto ok console log surname cosa succede secondo voi adesso abbiamo preso book book esiste quindi non è l'oggetto vuoto quindi passiamo avanti book author esiste ok allora andiamo a prenderci il valore di surname su book che però non esiste cosa abbiamo detto delle proprietà che non esistono in generale sugli oggetti sull'oggetto string verrà fuori undefined proviamo ok ci è venuto fuori undefined però non ci ha dato errore se io faccio così book author quindi salvo quindi vado direttamente a cercare book author surname perché penso che ci sia no scusate ah no ci serviva una facciamo un'altra una cosa che non esiste prima book author 2 ok se io di referenza qualcosa che non esiste mi dà un errore come il null pointer exception di java come come quando appunto di referenza un null pointer in c si pianta il programma va bene perché non è interpretato però ok quindi quella sintesi lì è molto comoda perché perché nel momento in cui appunto io non avessi definito author facciamo così non definisco author quindi ho tolto author da book quindi qualcuno per qualche motivo non non me l'ha definito non si è piantato il programma ok e se invece avessi fatto così appunto succede il problema ovviamente io non voglio mai che si pianti il programma perché perché se vi succede sul server si chiude il server se vi succede sul client e dipende da cosa fa l'ambiente di esecuzione da cosa combina react e come decide di gestire l'errore ok quindi i valori undefined sono qualcosa che possiamo gestire in javascript da referenziare qualcosa che non esiste no ok quindi facciamo annulla facciamo solo un assegnamento per creare un nuovo oggetto e poi facciamo la pausa ok quindi creiamo un nuovo oggetto facciamo const book2 quindi vogliamo creare la copia dell'oggetto object assign graffe quindi l'oggetto vuoto book console log book2 ok quindi non abbiamo fatto niente di particolare abbiamo usato il metodo che abbiamo detto object assign e abbiamo creato un secondo oggetto ok perché vabbè è segno che è quasi ora di fare pausa ok quindi questo è un nuovo oggetto se io modifico qualcosa in book2 non viene modificato nell'altro oggetto sono stati separati se invece avessi fatto book2 uguale book ho il riferimento allo stesso oggetto ma questo oramai penso l'abbiamo capito come con gli array e potevo addirittura fare come abbiamo visto cost book3 book ok console log book3 ok quindi lo spread funziona perché ci esegue anche la s9 correttamente il node che abbiamo installato posso fare anche così come ho fatto sugli array ok si tratta di prenderci la mano niente di particolare ok se appunto diciamo posso facciamo un ultimissimo esempio promesso const diciamo out rest rest book ok console log out ok ops out no out ok lo fa sul nome author ok no non è giusto author l'ho tolto eh si avevo tolto author scusate anzi togliamo author va che così poi potete provare la riga facciamolo su un altro title eh title poi vi faccio il commit eh prima della pausa quindi title ok ho estratto title dall'oggetto in una riga senza fare tanta fatica eh qui qui ovviamente l'esempio lascia un po' il tempo che trova come dicevo perché potevamo scrivere book.title ed era la stessa cosa ma se questo oggetto è passato come parametro a una funzione io voglio estrarre solo certi campi dell'oggetto nella funzione e così via questa sintassi la posso scrivere come parametro nella funzione e mi estrae automaticamente quello che mi serve tutto il resto viene buttato via ok quindi è il motivo per cui l'abbiamo vista non tanto per fare questi giochini che appunto lasciano un po' il tempo che trovano object example quindi vi faccio il commit e poi facciamo la pausa quindi di nuovo più eh quindi object example commit quindi localmente adesso c'è salvata questa versione del file per mandarla sul repository remoto faccio push ok devo aspettare un istante la rete forse non è velocissima a un certo punto eh ci sarà ce l'avevamo dove a 1 weeks lo consultiamo via ecco via web perché è un po' più comodo ma potete anche usare inizialmente solo via web eh quindi quello che ho fatto cliccate su row e fate direttamente copia e incolla incollate dove vi pare fate tutto quello che volete eh ok va bene direi di fare un po' di pausa eh non troppo ma insomma 10 minuti di pausa se avete dubbi o domande sono qui a disposizione eh allora chiudo solo la registrazione un po' di pausa